Dopo tantissimi episodi è finalmente arrivato il turno di Naomi, la pacchista campana, a Affari tuoi. La giovane impiegata ha scelto di iniziare il gioco insieme alla sorella, che ha scherzosamente definito il suo grande gluteo, considerato un portafortuna. La partita di Naomi è partita alla grande, con l'eliminazione di diversi pacchi blu e pochi pacchi rossi dal valore elevato. Questo successo è stato in parte dovuto anche ai particolari riti scaramantici di Stefano De Martino, che tra le risate del pubblico si è persino messo a fare degli affondi nel bel mezzo dello studio. Il dottore ha quindi proposto 44.000 euro alle due sorelle, una cifra consistente che però hanno deciso di rifiutare, scegliendo di proseguire nel gioco. Ma, subito dopo, sono arrivate due brutte sorprese. I pacchi contenenti 50.000 e 100.000 euro sono stati eliminati. Nonostante ciò, Naomi ha respinto anche la proposta successiva del dottore, quella di cambiare pacco. La telefonata è arrivata dopo un altro dei momenti musicali di De Martino, che ha intonato Rossetto e Caffè di Salda Vinci, salutando il cantante Campano. Poco dopo è arrivata un'altra grande batosta, la perdita dei 200.000 euro. Il pacco si trovava nella parte del tavolo, che ormai era considerata sfortunata. E Stefano, con ironia, ha preso un pennarello per suggerire di tagliare ufficialmente quella sezione del tavolo. Qui difendiamo sempre il podio, ha commentato Naomi. No, Bella, io non l'ho più detto. Ti avevo avvertito che quel tavolo è pericoloso e ci sei voluta andare tu, ha scherzato il conduttore. Ma la situazione è peggiorata ulteriormente, quando Naomi ha perso anche i 300.000 euro, rinunciando così definitivamente al podio del tabellone. Nonostante ciò, ha rifiutato di nuovo la proposta di cambiare pacco, confermando di credere molto nel numero 9, che rappresentava il suo. La sua scelta si è rivelata altalenante. Prima ha perso il premio più alto che le rimaneva, 75.000 euro, ma subito dopo ha pescato il pacco da 5 euro, trovando anche il biglietto della lotteria. Alla fine Naomi si è trovata con due opzioni, 10 euro da un lato e 20.000 dall'altro. Come sempre, il dottore, con il suo solito approccio sadico, le ha proposto all'ultimo minuto di cambiare pacco. Per la prima volta durante tutta la puntata, la pacchista ha deciso di accettare, scegliendo il pacco numero 3. Purtroppo si è trattato di una scelta sbagliata, perché ha trovato solo i 10 euro, rinunciando ai 20.000. A questo punto Stefano De Martino ha ceduto la linea alla prima puntata della nuova edizione di The Voice Kids, ma non si è limitato a un semplice lancio pubblicitario. Con affetto ha salutato Antonella Clerici, dimostrando il bel rapporto che ha instaurato con la conduttrice Rai. Ciao Antonellina, Component Placement ha detto, lasciando trasparire una sincera amicizia.